Salve a tutti voi, questa è l'ultima puntata della serie 2012-2013 di Edilizia Sicura. Abbiamo deciso insieme alle parti sociali di dedicarla interamente al percorso di istruzione e formazione professionale per i ragazzi che non hanno ancora completato il percorso dell'obbligo. È un'esperienza molto interessante e nuova, abbiamo deciso di intervistare i principali attori di questa esperienza. Nel 2012 per la prima volta abbiamo ospitato e stiamo finendo di ospitare il primo anno di un corso che si chiama IFP, quindi di formazione professionale che con un accreditamento avuto dalla regione ci ha costituito di diventare una scuola quotidiana per ragazzi giovani, minorenni, che sono usciti dal circuito scolastico e che vengono ripresi all'interno del circuito scolastico per poter assolvere all'obbligo della formazione facendo quella che è una scuola professionale nella quale oltre alle materie che devono essere apprese nella scuola media superiore c'è un percorso di acquisizioni di materie appunto pratiche nel settore dell'edilizia che consentirà a questi ragazzi di diventare, di avere un attestato come operatori alle strutture dopo aver frequentato un biegno. Il sistema scolastico italiano prevede che i giovani dopo la scuola media possono scegliere un percorso che porta un diploma dopo 5 anni di scuola oppure una strada più breve verso il mondo del lavoro, più professionalizzante di 3 anni. La Regione Emilia Romagna dal 2011 ha fatto una legge per cui è possibile accedere a percorsi di istruzione e formazione professionale anche attraverso percorsi negli enti di formazione. Iple organizza il percorso per ottenere la qualifica di operatore delle strutture e come è caratteristica di un ente di formazione utilizza modalità didattiche molto più attive, molto più adatte a ragazzi che generalmente fuoriescono dal sistema scolastico e quindi hanno bisogno di mettersi all'opera, di utilizzare laboratori, di esercitarsi in maniera pratica per apprendere delle tecniche, delle modalità lavorative. I percorsi prevedono anche un periodo di stage piuttosto lungo proprio perché anche a contatto con il mondo del lavoro durante il percorso scolastico si impara più in fretta quello che si andrà a fare poi nel mondo del lavoro. Ci sono un po' di teoria e un po' di pratica. La teoria ne facciamo quello che serve, poi c'è la pratica che facciamo dei muri, usiamo i rigoni, bolle, cartongesso facciamo, poi facciamo l'intonaco eccetera. In stage facciamo una bella esperienza perché vedi già come capisci il mondo del lavoro. Questa nuova esperienza è stata molto positiva per il nostro istituto. Abbiamo visto questi ragazzi che all'inizio erano titubanti, molto vivaci, diciamo, approntare il percorso verso il lavoro sempre più con serietà e impegno. Adesso, in questo momento, i ragazzi sono in stage presso le aziende, aziende che hanno accolto tutte molto positivamente questo inserimento. Quindi è stata una scommessa che il nostro istituto ha fatto, positiva, che risulterà sicuramente molto gradita nei prossimi anni e che ci consente di portare dei nuovi edili, dei nuovi muratori, dei nuovi operatori con una conoscenza professionale necessaria e adeguata ai tempi e che gli consenta anche di poter crescere professionalmente fino a diventare, noi ci auguriamo anche nel futuro, loro stessi dei nuovi imprenditori. Una novità per il futuro che nasce da questo percorso scolastico è sicuramente il cantiere scuola che abbiamo reintrodotto nel nostro percorso con l'adozione di un giardino qui in Via del Gomito e con la sua sistemazione da parte dei ragazzi. Questo giardino ovviamente sarà fruibile da tutta la cittadinanza e vedrà i nostri ragazzi orgogliosi di aver realizzato un'opera che ha ridato alla collettività un'area pubblica. Secondo me è un'iniziativa molto valida, anche perché era un bel po' di tempo che non si vedeva una cosa del genere a Bologna, quindi sto parlando dei tempi di mio padre, di mio zio e trovo che sia molto interessante. I ragazzi che sono venuti da me li ho trovati molto preparati e devo dire che li ho affiancati a dei miei dipendenti, si sono trovati subito a loro agio. Chiaro, sono dei ragazzini di 17-18 anni, abituati anche a scherzare, però devo dire che sono molto 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 bravi. Quello che ho visto è che all'inizio erano piuttosto diffidenti rispetto appunto alle mie materie, soprattutto rispetto a storia, però in realtà abbiamo fatto un percorso anche utilizzando molti filmati dell'Istituto Luce, quindi diciamo molti video che è un media che loro sanno in qualche modo capire e che reputano importante. Attraverso questo sistema didattico ha visto che ha cominciato a interessarli e quindi paradossalmente hanno avuto dei risultati anche piuttosto positivi e sono sicura che il loro livello di apprendimento rispetto a questa materia è cresciuto. È stato più facile invece per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza perché abbiamo trattato delle tematiche che erano tematiche che riguardavano la loro vita, quindi l'ecologia, l'ambiente, la raccolta differenziata e quindi questo permetteva loro di esprimere anche la loro esperienza personale e di metterla a confronto con quello che sarebbe auspicabile fare. Quindi si sono sentiti partecipi di un processo proprio che li coinvolgeva direttamente. Quindi io li ho visti comunque cresciuti in questo percorso e credo che questo sia molto positivo. Soprattutto appunto per dei ragazzi che in realtà sono stati abituati prima a non avere una gran soddisfazione rispetto al percorso scolastico. Finalmente un corso professionale anche a Bologna. È il primo in assoluto da che ricordo io dal dopoguerra. Ed è una cosa bellissima perché in realtà ci sono corsi professionali nelle scuole per elettrotecnici, disegnatori ci sono stati, meccanici e così via. Ma per muratori edili e operatori del settore mai. È stata una bella esperienza però di tutto. Poi diciamo i primi passi che abbiamo fatto abbiamo sbagliato, abbiamo fatto errori ma dagli errori dopo abbiamo imparato, abbiamo iniziato a costruire, a fare gli squadri. I nostri primi muri non sono stati un granché, però dopo pian piano con il tempo abbiamo imparato a metterli in bolla, a usare il filo. Abbiamo fatto una scelta, una scelta precisa di accompagnare dei giovani nel loro percorso di adempimento dell'obbligo formativo. La scelta si è rivelata vincente, non solo perché ci ha permesso di approcciare l'universo giovanile, di insegnare, di iniziare a insegnare dei giovani il mestiere dell'arte del fare il muratore. Con la specificità è un mestiere che ha in sé delle caratteristiche sociali importantissime. Chi fa questo mestiere, chi sceglie di fare l'operatore edile, sceglie di costruire, di creare. Creare la casa che è il luogo primario dove la base della società si sviluppa è per noi un valore importantissimo che va assolutamente ripreso e valorizzato. Abbiamo avvicinato dei giovani, dei giovani che facevano fatica a completare il loro percorso scolastico. Abbiamo dato a questi giovani unitamente una formazione teorica, una formazione pratica. Da quest'anno insegniamo ai ragazzini dai 15 ai 18 anni cantiere dove loro possono sperimentare l'utilizzo di piccoli utensili manuali e qualche utensile elettrico, tutto propedeutico all'inserimento nel mondo del lavoro tramite uno stage che si fa solitamente a fine anno. I ragazzi vengono a scuola a imparare le materie di base e quelle di base tecniche, un po' di materiali, un po' di attrezzatura, però è importante la sicurezza in cantiere. Da settembre 2013 ci sarà l'opportunità per i giovani dai 15 ai 18 anni di frequentare un percorso formativo del tutto nuovo nel panorama bolognese. La qualifica professionale di operatore di ILE alle strutture. Non è solo un muratore ma un professionista dell'edilizia, può essere un imbianchino, un piastrellista, un cartongessista, un vero operatore del settore. I ragazzi e le ragazze che vorranno iscriversi al nostro centro di formazione accreditato dalla Remiglia Romagna impareranno un mestiere. Dopo due anni di formazione potranno già accedere al mondo del lavoro e avere quindi più possibilità di trovare lavoro, apprendendo in modo qualificato un mestiere. La qualifica di operatore di ILE alle strutture si avvierà presso la nostra sede di Bologna dal lunedì al venerdì a partire da settembre 2013. I ragazzi impareranno sia materie tradizionali come l'italiano, la matematica, la geometria, ma anche e soprattutto materie più professionalizzanti, più tecniche come il disegno nel settore delle costruzioni, l'organizzazione di un cantiere, l'informatica. I ragazzi faranno anche un'esperienza di stage durante il loro percorso formativo e scolastico dove potranno sperimentare quanto appreso in aula. Una parte consistente delle ore verrà svolta nel nostro laboratorio di costruzioni, dove i ragazzi potranno sperimentare le tecniche più avanzate dell'edilizia con esperti qualificati del settore. È importante sottolineare che il percorso formativo non prevede costi di iscrizione, in quanto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Fondo Sociale Europeo e dalla provincia di Bologna. Chi fosse interessato a questo percorso formativo può già segnalarci il proprio interesse, compilando una scheda di adesione reperibile al nostro sito internet www.edili.com oppure contattarci allo 051 32 76 05. Visitate la nostra pagina Giovani Edili su Facebook e cliccate Mi Piace. Grazie a tutti voi per aver ascoltato questa puntata dedicata all'esperienza dell'istruzione e formazione professionale. Vi diamo appuntamento al prossimo ottobre 2013 per la nuova serie di edilizia sicura. Arrivederci a tutti.